ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo oggi andremo a parlare di un maen maen nell'antica lingua olandese significa luna moon maen e infatti i due fondatori sono olandesi ma si sono trasferiti in svezia nel 2017 quando hanno aperto questo brand di orologi quindi maen nasce nel 2017 e a dire la verità io fatico anche a dargli una collocazione in merito a livello micro brand o brand chiaramente si tratta di un micro brand ma a catalogo hanno tutta una serie di famiglie di orologi che certifica la consistenza del marchio e tra l'altro sono tutta una serie di famiglie di orologi modelli che hanno come diametro cassa 36 37 e 38 mm basta questo la dice lunga su quale sia la mission di maen cioè una scelta ben precisa andare a offrire al pubblico orologi dal diametro contenuto questa è una scelta un pochino strana particolare diciamo perché taglia fuori tutta quella fetta di appassionati che prediligono o hanno bisogno semplicemente di orologi dai 40 in su da 38 in su addirittura però è una scelta ben precisa che identifica maen come un marchio che va su questa strada qua sugli orologi contenuti e infatti sta avendo successo perché gli orologi quando li mettono in commercio vanno sold out nel giro di pochi giorni a proposito di pochi giorni e sold out questo orologio che io vado a presentare oggi lo sky master è un che hanno realizzato in collaborazione con watchfinder è una limited edition per watchfinder che sarebbe altri che il portale di vendita di orologi di secondo polso molto famoso hanno anche un canale youtube abbastanza seguito no portale con il quale hanno fatto questa limited edition che è in esclusiva mondiale qua sul mio canale il che mi inorgoglisce e sarà in vendita da oggi fino a il 16 ottobre cioè una settimana chi c'è c'è chi non c'è non c'è va da sé che deve essere un acquisto fatto di pancia non è che ci si può pensare molto questo lo fanno mi hanno detto perché solitamente addirittura quando fanno una limited edition in poche ore va sold out quindi questa volta hanno voluto dare una finestra di tempo che in confronto ai pochi minuti diventa un'eternità infatti sono rimasto sorpreso quando mi hanno detto questa cosa una settimana di tempo e il numero di pezzi realizzati è indefinito nel senso quando avranno raggiunto agli ordini in questa settimana se saranno 123 pezzi la limited edition sarà di 123 pezzi punto questo questo orologio qua la particolarità di avere un quadrante è differente dal resto perché a catalogo hanno sempre nello stesso periodo vanno a metterli in vendita altri cronografi a catalogo che non sono limited edition ma con una foggia differente ora questo orologio che mi hanno mandato è un prototipo un esemplare di pre serie che io dovrò restituire e come tale presenta delle particolarità e anche dei difetti diciamo la verità c'è dei piccoli difetti che poi credo spero non saranno sugli esemplari che produrranno in serie qual è la particolarità intanto mi hanno detto che la satinatura che vediamo sarà più marcata in quelli di serie quelli in vendita io la vedevo già l'ho vista già marcata così non mi sembrava necessario ma mi hanno precisato questa cosa in secondo luogo ci sono alcuni punti che sono un pochino deboli nel senso che i numeri incisi sulla ghiera un paio di numeri sono un pochino scoloriti sul bordo ci farete caso perché un esemplare un prototipo quindi è così ma la cosa più importante è che questo prototipo ha la corona a vite cosa che sugli esemplari in vendita di serie non ci sarà e voi dite peccato no meno male meno male che non ci sarà perché su questo esemplare che è un prototipo essendo a vite io mi sono ritrovato con un carica manuale in difficoltà perché perché se te carichi l'orologio a carica manuale fino a fine corsa a quel punto lì la corona non andrà più in senso orario è arrivata a fine corsa stop poi prova un po' avvitare la corona quando non gira più non c'è verso di avvitarla infatti in alcune immagini voi vedrete che si vede un pochino di filettatura che la corona è un pochino estratta perché non potevo più avvitarla una volta che un carica manuale è arrivato a fine corsa non puoi più avvitarla quindi a questo ha avuto questo piccolo problema e invece sarà su quelli in vendita sarà a pressione e questa è una buona cosa adesso non resta che girare la camera guardare l'orologio e poi ci troviamo qua per le conclusioni finali anche se qualcuno avevo già anticipato ora ma le conclusioni finali vi aspetto qua iniziamo come di consueto enunciando i risultati ottenuti dalle misurazioni sul campo diametro cassa 38 millimetri spessore 13.5 ingombro trasversale al polso 48 millimetri e interasse ansa da 20 millimetri per una volta vorrei iniziare dal calibro utilizzato dall'orologio e il motivo verrà ben presto svelato si tratta di un sellite sv 510 mb movimento cronografico a carica manuale che ricalca a grandi linee l'architettura dell'eta 77 50 chiaramente senza la parte automatica esistono quattro tipi di finitura che vanno dal d1 al d4 ed è chiaramente visibile ad occhio nudo la differenza di decorazione tra i quattro step attenzione questi sono semplicemente i livelli di finitura che nulla hanno a che vedere con il grado sellita li chiama elabore top e cronometer dei quali quest'ultimo altri non è che la versione top grade certificata cost bene all'interno di questo sky master troviamo la versione top grade che prevede l'utilizzo dei migliori materiali regolato su cinque posizioni e con uno scarto giornaliero di più 4 meno 4 secondi lo si può anche apprezzare grazie al fondello trasparente che ci consente di visualizzarlo e di avere quindi conferma dell'ottimo grado di finiture presenti sul movimento una scelta che si può considerare di pregio naturalmente tenendo conto dei limiti dati dalla non esclusività di un calibro di fornitura dicevo che ho voluto iniziare dal calibro perché è il responsabile dell'esiguo spessore dell'orologio chiaramente esiguo in relazione al fatto che si tratta di un cronografo siamo abituati a vedere cronografi meccanici che spaziano dai 14 e 15 mm mentre qui ci troviamo di fronte a soli 13.5 mm chiaramente questo è dovuto alla scelta di un movimento manuale l'assenza del rottore di carica permette un risparmio in altezza di ben 9 decimi di millimetro a parer mio una scelta vincente che non sempre viene adottata io preferirei avere in linea generale cronografi meno spessi e sono disposto a sacrificare la carica automatica pur di averli specie in un orologio come questo dove 38 mm di diametro e il lag to lag contenuto sarebbero un buon viatico per creare un orologio tombino e invece grazie a quel millimetro in meno di spessore si è riusciti ad ottenere delle ottime proporzioni che sul polso danno i loro frutti forse i 38 mm di un cronografo rappresentano il limite inferiore per me ma sono sicuro che per molti appassionati si tratti della misura ideale stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad un design classico un aspetto che strizza l'occhio al vintage ma mettendo in mostra quelle superfici ben definite frutto della tecnologia moderna è fuori da ogni dubbio ad esempio che la satinatura presente sul lato carl sia ben apprezzabile ma non si tratta di quella definitiva in quanto si tratta di un esemplare pre serie mi è stato riferito che sugli esemplari di produzione la differenza tra superfici spazzolate e lucide sarà ancora più marcata in ogni caso già adesso ci troviamo di fronte ad un lavoro rimarcabile tralasciando questo dettaglio e tornando alla cassa mi sento di sottolineare come siano le ansie a determinare il carattere dell'orologio non troppo arcuate piuttosto lunghe se relazionate al diametro cassa e con quella smussatura interna verso i finali che gli consente di integrarsi elegantemente al bracciale jubilee ma sono soprattutto due gli elementi che da sempre riescono a dare un tono all'orologio cronografo ossia il lato pulsanti e la lunetta vediamoli nel dettaglio non ricordo mi siano mai capitati dei pulsanti a pompa in questo stile si è vero si tratta del tipico design vintage degli anni 50 e 60 con testa cilindrica maggiorata rispetto allo stelo ma la lunghezza di quest'ultimo è veramente accentuata sporgono di molto dalla cassa le considerazioni sono due molto belli a vedersi longilinei ed identificativi per contro molto pericolosi per eventuali urti accidentali una leva così lunga può comportare il piegamento dello stelo tra i due pulsanti compare la corona di che come in ogni orologio manuale che si rispetti è di ampio diametro e a pressione una coronavite risulterebbe scomoda in quanto un calibro manuale deve essere caricato ogni giorno va da sé che svitare e riavvitare quotidianamente comporterebbe un inutile stress sulla filettatura tanto più che nonostante sia pressione l'impermeabilità dichiarata è di ben 100 metri non male dicevamo che un altro dettaglio da tenere in considerazione a riguardo dello stile è la lunetta non sempre è presente anzi la maggior parte dei crono in stile vintage presenta la scala tachimetrica riportata all'interno del quadrante nello sky master la troviamo ben presente in acciaio satinato senza alcun tipo di pigmentazione soluzione che consente di mettere in evidenza anche qui la spazzolatura opaca che risalta particolarmente rispetto alle cifre incise e laccate di nero diciamo che la soluzione tutto acciaio di questo crono è piuttosto accattivante senza ombra di dubbio lasciatemi spendere poi due parole sul fondello e soprattutto sulle scritte che saranno presenti sul modello di serie nel mio non sono presenti come si vede è a vite e trasparente il vetro è del tipo zaffiro tanto per rimarcare la continuità nella cura dei dettagli ma ciò che voglio mettere in evidenza è l'ironica dicitura che palesa la collaborazione citata in apertura in caso di emergenza vendere a watch finder tra il serio e il faceto io direi che probabilmente non siamo lontani dal vero credo che in caso di vendita sarebbero ben felici di comprarlo loro tra l'altro c'è anche il numero progressivo della limit edition che come detto non è ancora stato stabilito al momento lo scopriremo a preordine terminato ma torniamo al lato a e diamo lo sguardo al quadrante da una certa distanza ciò che si apprezza di primo acchito è il contrasto che ci restituisce il tutto acciaio con il quadrante certo l'effetto panda reverse con i sottocontatori chiari è altrettanto incisivo ma è proprio la scelta cromatica ad essere corretta se il quadrante fosse stato chiaro e la lunetta la carta di nero non avrebbe colto nel segno lo stesso modo non voglio poi dimenticare il fatto che anche il vetro zaffero gioca un ruolo decisivo nel sapore vintage globale si tratta del classico trasparente sporgente dalla cassa e leggermente bombato verso il centro una tipologia che non crea eccessiva distorsione laterale la si nota leggermente lungo il rio ma in maniera limitata ci appaiono leggermente segmentati dunque solamente i riferimenti dei minuti presenti a corollario del quadrante il colore della minuteria tendente all'arancio ci restituisce la percezione di calore una tonalità che unita a quella del quadrante rende il tutto molto tropicale ed infatti è questa l'intenzione della limited edition riproporre una tonalità simile a quella dei quadranti virati a causa dello scorrere del tempo e a causa della luce del sole che li ha cotti i cosiddetti tropical a parer mio l'effetto ottenuto è positivo non ci troviamo di fronte ad un finto effetto vintage ma ad un color bronzo scuro che riesce ad integrarsi alla perfezione nella ovvia e naturale consistenza di un orologio appena uscito dalla fabbrica inoltre la finitura soleil del fondo è una palese dichiarazione di modernità con quei suoi riflessi di luce ora orizzontali ed ora verticali insomma non sembra una cosa vecchia su di una cosa nuova non mancano poi tutti quei piccoli dettagli che solitamente ci rendono appetibile l'aspetto di un orologio i contatori realizzati in negativo con quello scalino spigoloso che ne accentua la tridimensionalità e con quei markers in stile lollipop che mi sembrano alquanto originali se non altro poco visti il tutto con finitura a cerchi concentrici una decorazione classica senza tempo che mira riempire l'occhio senza affaticarlo allontanandoci verso il bordo incontriamo poi gli indici applicati in rilievo a finitura rodeata e con un piccolo segmento di super lominova all'estremità esterna anche qui la sensazione di profondità è molto accentuata insomma un insieme di elementi posti su piani differenti che rende il quadrante vivace senza appesantirlo lo si evince anche dalla scelta di porvi una sola scritta il nome maen ad ore 12 tutto semplice e razionale avrete già capito che ritengo la leggibilità piuttosto buona ci sono però dei punti critici ad esempio le sfere dauphin presentano un elegante finitura lucidata consona allo stile classico dell'orologio ed è vero che spiccano sullo sfondo scuro ma in determinate situazioni di luce tendono a confondersi con il quadrante occorre semplicemente inclinare il polso per farle risaltare allo stesso modo i sottocontatori presentano accenti neri sul fondo chiaro e risultano chiaramente distinguibili l'unico appunto può essere fatto alla scelta di aver inserito quelle linee nere che attraversano i sub dials è vero che sono più sottili delle lancette ma ho come il timore che al colpo d'occhio si possa creare un po di confusione occorre prestare maggiore attenzione nel leggere i tempi cronografici o forse è solo questione di abitudine in assenza di luce ecco comparire il super luminova del tipo x1 old radium con quella sua tonalità calda in linea con lo spirito dell'orologio certo non gli è richiesto di essere un orologio super leggibile al buio ma quei pochi accenti luminosi presenti sono sufficienti a delineare a spanne l'orario curioso poi il fatto che anche la punta della lancetta crono sia visibile non accade spesso non rimane che dare uno sguardo al bracciale e qui occorre precisare che è possibile acquistarlo in due configurazioni bracciale stile jubilee ed un altro dall'aspetto più classico inutile dirvi che la mia preferenza va per il bracciale simil jubilee sia per le qualità intrinseche di comodità sia per l'aspetto estetico che trovo più coerente allo stile dell'orologio parte dai 20 millimetri all'ansa per rastremare fino ai 16 della chiusura una diminuzione che disegna una linea elegante attorno al polso la qualità di realizzazione è buona se non ottima lo si vince dalla cerniera della chiusura farfalla in acciaio solido spesso e dai perni a vite che troviamo a fissare le singole maglie da notare che vanno ad avvitarsi direttamente sulla maglia senza fastidiose controviti o perni aggiuntivi ho dovuto aggiungere tre maglie ed ho finito in cinque minuti senza fare alcun danno a patto di avere i cacciaviti giusti cosa che consiglio a chiunque voglia avere un minimo di autonomia nelle regolazioni e nel fai da te possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali che sia un orologio esteticamente apprezzabile è fuori da ogni dubbio almeno per la maggior parte degli appassionati dai non si può dire che sia brutto si può magari dire che non porta niente di nuovo nel panorama dei cronografi ecco questo magari potrebbe essere la verità perché perché è un cronografo piaccione un cronografo ammiccante un orologio che fa di tutto per cercare di rientrare nei tuoi gusti e ci riesce se proprio vogliamo essere pignoli qualcosa di differente c'è e cosa è in un in un periodo nel quale i bracciali a chicchi di riso la fanno da padrone il buon vecchio jubilee rappresenta qualcosa di nuovo specie si è accoppiato con un quadrante tropical come questo ecco questi due aspetti estetici messi assieme su un cronografo fanno qualcosa di diverso qualcosa di 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 differente certo non spizza quel guizzo di identità unica che può dividere il pubblico non è così divisivo che piace non piace l'ho detto è piaccione però almeno un braccialino jubilee e un quadrante tropical ce l'ha qualitativamente parlando ci troviamo di fronte ad un orologio ben fatto ma è ben fatto al giorno d'oggi è difficile trovare orologi fatti male anche dal più lontano dei micro brand è difficile punti forti sono sicuramente la qualità costruttiva come dicevo e anche possiamo mettere il calibro top grade non è da tutti utilizzare un calibro top grade all'interno di un orologio di un micro brand specie considerando i margini di guadagno è molto più semplice inserire un calibro base così aumenta il mark up e siamo tutti più contenti tanto cambia poco in questo caso hanno deciso di mettere un bel calibro top grade che è regolato come si deve quindi meno 4 più 4 secondi e vi arriverà un orologio con un calibro come si deve con tutti i limiti come ho detto del fatto che sia di fornitura e non un calibro di architettura proprietaria ma stiamo parlando di un micro brand anche se è evoluto non ho ancora parlato dei difetti e cercherò di parlarne adesso anche se è difficile trovarne citerò quelli che ho menzionato durante la recensione la lunghezza dei pulsanti a pompa dei pulsanti cronografici e sono belli a vedersi questo è poco ma sicuro però sono molto lunghi occorre prestare attenzione a non prendere dei colpi perché piegare un pulsantino significa compromettere la sua impermeabilità che abbiamo visto 10 atmosfere 100 metri quindi anche buona però ogni volta che si prende un colpo su cui pulsantini il rischio è grosso per contro come ho detto sono belli a vedersi cioè sono proprio belli da guardare staresti ore e ore a guardare quei pulsanti che quelle corna che escono lino e c'è il pro c'è incontro la leggibilità anche lì quelle sfere dauphin lì sono simpaticamente metalliche la finitura lucida no e sono belle sono eleganti per contro in certe situazioni come muovi il polso si possono confondere con il quadrante quindi in quel caso lì c'è c'è poco da fare ruoti leggermente il polso e le scopri e vedi l'orario succede qua come succede su altri orologi però andava detto così come i sottocontatori quelle linee nere che possono confondere ecco sulla leggibilità si potrebbe andare il meglio per il resto ragazzi è un cronografo bello piaccione io ve l'ho messo sul tavolo vi ho detto i pro e i contro ve l'ho fatto leggere praticamente vi ho fatto le fotografie le macro vi ho spiegato come è fatto vi ho dato che il mio parere quindi di più non posso fare se cercate un cronografino carino accattivante piaccione che piace anche alle donne quindi non si sa mai questo qua potrebbe fare il caso oltre poi decidete voi non è che posso decidere tutto io no non posso fare tutto io quindi ognuno di voi decida per sé boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero che vi sia piaciuto il video il presentatore e il contesto se così non fosse ce ne faremo una ragione vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love